Dopo settimane di campagna elettorale piuttosto incolore in provincia, fine settimana di urne aperte in arrivo. Già domani, sabato 8 giugno, si potrà votare dalle 15 alle 23, mentre domenica sarà possibile recarsi ai seggi dalle 7 fino alle 23. In provincia di Sondrio, per le europee, gli aventi diritto al voto nelle 199 sezioni dei 77 comuni sono 163.882, dei quali 80.382 uomini e 83.500 donne. In 46 comuni di Valtellina e Valchiavenna, domani e dopo si vota anche per il sindaco il rinnovo del Consiglio Comunale. In questo caso sono interessati 92.812 elettori, dei quali 45.552 maschi e 47.260 femmine. Tra i capoluoghi di mandamento chiamati a scegliere il primo cittadino, Morbegno è il più popoloso con 10.676 aventi diritto al voto, seguito da Tirano con 8.186 e Chiavenna con 7.087. Savero similmente molto veloce, lo spoglio invece a Pedesina, soltanto 42 aventi diritto al voto. Numeri a 6 ridotti di elettori, anche a Vervio 153, Rogolo 246, Tovo 274, Albaredo 281 e Postalesio 287. In 15 comuni su 46 si presenta un unico candidato, mentre in 27 è prevista una sfida a 2, e in 4, Chiuro, Piantedo, Poggi Ridenti e Tirano, la corsa per la poltrona di primo cittadino sarà a 3. Poche le donne che hanno deciso di candidarsi al ruolo di sindaco del proprio comune. Su 81 candidati, infatti soltanto 11, di cui 2 a Tirano e altrettante a Piantedo. Trattandosi di comuni tutti con meno di 15.000 abitanti, vince chi prende più voti al primo turno, a prescindere dalla percentuale. In presenza di un solo candidato, questi viene eletto solo se almeno il 40% della popolazione ha votato e lui o lei ha ottenuto almeno la metà dei voti validi. Dal 2024 i sindaci dei centri con meno di 15.000 abitanti possono essere rieletti per un terzo mandato, mentre quelli dei comuni con meno di 5.000 abitanti non hanno più limiti di mandati. Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali inizieranno lunedì 10 giugno alle 14. 10.